il regista riesce soltanto se sa individuare questo spazio incantato sempre diverso per ogni teatro per ogni spettacolo con le lacrime amare di Petra von Kant Elio de Capitani e Ferdinando Bruni all'elfo di Milano hanno trovato il loro quadrato magico e con esso il loro più bello spettacolo la storia dell'amore tragico di Petra per la giovane Karin è elevata dall'inizio alla fine all'altezza di una passione di un mistero del dolore umano ma è anche rappresentata in tutta la sua durezza l'alternanza di lacrime e crudeltà fra seduttore e sedotto l'inferno delle contraddizioni siamo in pieno Fassbinder ma De Capitani e Bruni scoprono anche quella risata teatrale derivata dal profondo italiano dell'arte della commedia Ida Marinelli la protagonista è ancora più brava di come la ricordavamo liete sorprese e stupende conferme da tutti gli altri da Cristina Crippa sacerdotessa del dolore a Paola Rota nuovissima Karin e Corinna Agustoni Elena Russo Luca Toracca il successo dello spettacolo è di quelli che imbarazzano perché cimentano gli autori a creazioni di uguale grandezza è una sfida difficile